Bella a tutti ragazzi, sono Vernastro e oggi vi voglio raccontare una storia. È un pezzo di un libro, quindi non vi sconcertate se non capite quello che succede prima o dopo, perché è normalissimo. La nostra storia parla di Fatou e Lucien, due ragazzi... Due ragazzi... Lucien è un ragazzo abbastanza mite e introverso, invece Fatou è una ragazza grande e grossa, contro cui nessuno vorrebbe scontrarsi. E ovviamente il nostro protagonista, Lucien, si schianta letteralmente contro di lei nei corridoi della scuola, che è formale. Comunque, tornando al nostro punto di storia, Lucien e Fatou decidono di scrivere una lettera, scriversi una lettera vicenda per vedere chi odia più cose nel mondo. Lucien scrive tutte le cose che odia, tante cose, veramente una lista molto lunga, Inveceo Fatou scrive le cose che lei ama. Quando poi Lucien legge le cose che odia lui, che lei ama, capisci che sono tutte e due uguali. Cioè, capisci che quello che ama lui, lei le odia. E fa questa faccia. Bella a tutti ragazzi, sono Vernastro, e questo è il nostro video di dietro le quinte. Io sono Vernastro, lui è MaxtermixMax. Ciao. Cosa c'è in questa stanza? Un bel niente. Una pianta morta, un'altra pianta morta, delle sedie. No, lì dentro non ci sono soldi, ve lo assicuro, ho già controllato. E no, non è neanche camera mia. Qua ci sono dei nostri schizzi, barra disegni, barra schifezza. Sì, stiamo facendo molta pubblicità youtuber famosi, tra cui alcuni. Poi, sì, lo Slender. Non so cosa ci fa lo Slender, ma abbiamo disegnato lo Slender. Pacman. Sentite la canzone in sottofondo, francese ovviamente. Ha scritto qualcosa? Sexy. Se. Io. E' sparato fra tu Max. Mi piace la scuola. Va bene. Allora ci possiamo salutare qui. Un po' d'olio? No eh. Va bene, va bene. E con questa chiusura etnica vi salutiamo. Mettete un bel mi piace, condividete, commentate. E un pollice in su. Ci vediamo alla prossima da Master Mix Max. Di domani. Vi 3, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10. Grazie a tutti